Giannetti, in questi giorni si è parlato molto sui giornali ma anche noi in tv sull'utilizzo delle aree Enel sul dopo centrale. C'è un progetto di utilizzazione presentato dall'amministrazione comunale con Enel, però tutti rivendicano un progetto complessivo per non andare poi al solito spezzattino che non favorisce veramente l'utilizzo di un'area così vasta come quella dove sorgeva la centrale. Esattamente perché il rischio che progettare soltanto su 14 ettari anziché su 72 poi provochi anche un ridotto risultato anche in termini di sviluppo per la città è ampio, quindi la necessità invece è quella di coinvolgere tutti gli attori compresi le parti sindacali in un dibattito e di porsi il tema dal punto di vista di sviluppo anche occupazionale dell'area e soprattutto il tema delle bonifiche che è centrale e assolutamente prioritario. Giannetti, è opinione diffusa che il Consiglio Comunale sia un'assemblea da tempo in crisi, in crisi perché molto spesso è chiamata a ratificare decisioni prese dalla Giunta e sterile dal punto di vista produttivo dell'interesse anche per la città e infatti anche mezzi di formazione molto spesso ignorano i Consigli Comunali. Dal punto di vista dell'opposizione cosa è possibile fare per renderle invece interessante farsi ascoltare sedendo nei banchi del Consiglio Comunale? Ma allora innanzitutto è possibile portare in aula tematiche che mobilitino le persone lo abbiamo visto appunto per Cadimare, è capitato di recente anche banalmente per il Nuovo quando le persone partecipano anche il meccanismo di dialettica tra maggioranza e opposizione magicamente quasi cambia, si ha un potere contrattuale diverso quindi è importante provare a mobilitare sulle questioni le persone e poi credo che sia importante anche pretendere un rispetto anche istituzionale e un coinvolgimento delle commissioni e del Consiglio Comunale anche da parte dell'amministrazione della Giunta. Molto spesso noi abbiamo richieste di convocazioni che rimangono pendenti per mesi, settimane e anche solo impegnarsi nel chiedere che invece questo tipo di appuntamento e anzi di istituzione venga rispettato già. Per il ruolo del Consiglio Comunale? Assolutamente, assolutamente. Bene, l'intervista completa a Martina Giannetti, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, questa sera alle 21.30.